Il linguaggio dei giovani ha acquisito ormai, tutti lo riconoscono, delle nuove grammatiche espressive. È quindi necessario, come accade per una lingua diversa, cercare di conoscere sintassi, stilistica, modalità. E questo loro linguaggio si esprime soprattutto attraverso tre formi. Prima di tutto la frase essenziale, la frase nuda, coordinata, non la subordinata e troppo articolare. Si esprime attraverso il simbolo, l'immagine, che attraverso lo schermo del computer domina e alla fine si manifesta attraverso la virtualità. Ora la virtualità è anch'essa realtà, paradossalmente, perché costituisce un legame tra le persone, sia pure molto diverso rispetto al legame tradizionale della nostra comunicazione.